Con la ripresa delle lezioni, per tutelare la vostra salute e sicurezza, dovete seguire alcune semplici indicazioni. All'ingresso degli edifici vi viene chiesto di evitare gli assembramenti mantenendo il distanziamento interpersonale e di contingentare l'accesso. Vi aiuta la segnaletica presente sul pavimento e la cartellonistica informativa con le misure igieniche di comportamento affissa su pareti e porte. Gli ingressi e le uscite dagli edifici sono segnalati e trovate indicazioni sui flussi da seguire per raggiungere le aule. L'accesso è consentito solo con la mascherina e sono presenti all'ingresso distributori di gel igienezzanti per le mani. In aula trovate indicati i posti occupabili e quelli vietati per mantenere il distanziamento durante le lezioni. Si raccomanda il lavaggio frequente delle mani o la loro disinfezione tramite dispenser collocati in vari punti della struttura. L'accesso alle zone break e ai servizi igienici avviene in maniera contingentata. Vi aiuta la segnaletica presente nell'edificio. La vostra collaborazione è preziosa per una ripresa della didattica in presenza, garantendo la vostra salute e sicurezza. Grazie per la visione!